eccoci amici cari domenica di nuovo insieme non molliamo non molliamo non molliamo non possiamo permettercelo in questo momento mentre preparavo i documenti secondo fai uscito visto un post della nostra amica fedora che salutiamo ciao fedora in cui diceva comunicava una cosa che si sta si sta diffondendo la germania utilizzerà per prima la cura dei degli anticorpi monoclonali fedora siamo pronti su questo su questo tema eccoci guardate eccoci qua covid la germania utilizza per la prima volta la cura sperimentale data a trump il governo ha comprato 200.000 dosi di anticorpi monoclonali guardate la germania caspita allora questa sembra una buona notizia che coraggio la germania capperi chissà dove li costruiranno chissà quale ditta a questa a questa possibilità sarà in cina saranno gli americani capperi certo la germania è in anticipo su tutto vergogniamoci un pochino vergogniamoci ecco qui covid anticorpi monoclonali prodotti a latina ma non per l'italia guardate ecco qui la germania compra 200.000 dosi gli anticorpi sono fatti a latina ecco guardate guardate che follia ecco i numeri che danno i nostri dirigenti guardate in italia l'agenzia del farmaco italiano l'aifa non si è ancora espressa stanno aspettando chissà che cosa sull'utilizzo di questi anticorpi monoclonali negli stati uniti la fda ente regolatore dei farmaci americana ha dato il via libero tanto è vero che con questi monoclonali è stato è stato curato addirittura trump avete capito si producono in italia a latina ma noi andiamo a comprare tutti i vaccini del mondo sputnik e altro ecco ma ma gli anticorpi monoclonali ne abbiamo già parlato anche l'altro giorno ecco qua riportiamo ricordiamoci l'articolo che vi abbiamo fatto vedere della dottoressa silvana mari eccola qui ed ecco qui gli anticorpi monoclonali ecco i nostri medici eccoli i nostri medici già stanno curando da mesi e mesi con gli anticorpi monoclonali ma sono vietati dall'aifa per lo meno non sono autorizzati dall'italia dal ministero l'aifa il ministero in pratica sono non sono ammessi quindi negli ospedali non si danno ma negli stati uditi si danno e la germania sta comprando dove dall'italia avete capito bene dall'italia 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 l'italia li produce ma non li utilizziamo perché le strutture governative aifa non lo consentono ecco qui semplice semplice ma 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 state attenti state attenti in questo momento la cypher ha il terrore l'astra zenica sta vivendo momenti di terrore perché perché hanno il terrore guardate perché eccolo perché conte annuncia che farà causa ecco conte annuncia che farà causa è ridicolo è folla conte che fa causa la cypher cioè rendetevi conto che l'egitto ci ha dato 200 calci nel sedere su quel poverino di reggeni che è stato ammazzato e all'egitto non gliene fregato assolutamente nulla del delle proteste italiane anche di quel giovanotto che in carcere non gliene frega assolutamente nulla di qualche blanda protesta conte farà causa la cypher andiamo avanti bellissimo il titolo per vedere le bugie che vengono raccontate perché ci sono un sacco di bugie ma non lo diciamo noi perché ricordiamoci sempre che tutto quello che noi affermiamo è documentato non raccontiamo favole bellissimo il titolo oggi del manifesto un giornale che non leggo molto volentieri ma bisogna ammettere che quando ci sono articoli seri vanno vanno promulgati ecco qui guardate che bel bel titolo che ho fatto stamattina il manifesto i bugiardini e vedete dopo l'up cipher anche astra zega annuncia la riduzione della produzione dei faccini il taglio del 60 per cento delle dosi conte annuncia azioni legali capperi pazzesco stanno tremando da stamattina dopo che sono usciti questi allora prima di andare ai dati e numeri veri di quello veri no ai numeri non veri ma adesso ne parliamo un attimo vi faccio notare con due titoli come stanno dando i numeri cioè le istituzioni italiane qualsiasi istituzione da un comune non tutte per fortuna troppe stanno dando i numeri proprio i numeri allora guardate che succede a roma guardate cosa succede a roma una tragedia ristoranti chiusi palestre chiuse negozi storici chiusi chiusi definitivamente con le sbarre artigiani rovinati una catastrofe totale immaginare taxi ncc non c'è più un turista una catastrofe non si circola più non si può più circolare vietato non si può andare fuori comune eccetera la sindaca raggi ha deciso ecco qua guardate sembra una follia guardate oggi stop alle auto oggi stop alle auto a roma la giornata verde ma giornata verde la giornata verde di bile oggi giornata giornata verde quei poveri negozianti che stanno stretti alla gola che oggi hanno i saldi non si può circolare allora 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 un cittadino modello noi non siamo modello dirà va bene allora è verde io prendo l'autobus perché l'autobus è verde gli autobus sono tutte diesel ma facciamo conto ecco qui l'autobus si chiama attack a roma ecco qui il titolo di oggi trasporti resa dell'atac non prendete bus ecco c'è bisogno di commentare queste notizie non facciamo commenti stiamo dando solo notizie le leggiamo insieme siamo alla follia più totale e vediamo i numeri allora allora sedetevi un quarto d'ora dieci minuti otto sedetevi numeri pazzeschi sono talmente ma innanzitutto innanzitutto ringraziamo la nostra amica marzia che ci ha dato questo studio una ragazza una donna fantastica che ci aiuta come tanti di voi ci aiutano in questo caso è un dossier che ci ha recapitato la nostra amica marzia che collabora con noi come centinaia di amici amiche soprattutto amiche fantastiche allora guardate adesso vi facciamo vedere tutte schede schede dell'istat di istituti sanitari tutte schede schede proviamo anche se non ci non ci riusciremo proviamo a non fare commenti a leggere le schede perché basta leggere per capire che è tutto un disegno ma ma una follia perché poi giustamente ma vedete dato che non siamo né complottisti né ragazze tutte stesse queste cratinate noi siamo persone che intellettualmente sane ci domandiamo anche ma perché tutto questo perché si falsifica si dicono cose folli sì sì non si usano i monoclonali che vengono prodotti in italia l'idrossiclorina non si può utilizzare perché non si sa che cosa e poi invece salva le vite perché si utilizza la tachipirina quando la tachipirina non fa non serve al covid ma si utilizza l'aspirina e allora qualcuno giustamente mi domanda ma perché allora c'è tutto questo ci deve essere un motivo perché non si danno i numeri reali perché si fa solo una dose del vaccino e la seconda dose non le hanno neanche comprata non si saprà se ci sarà ma siamo dinanzi a un branco di talmente incompetenti che non si non si possono neanche descrivere siamo di fronte a un'organizzazione non lo so non lo sappiamo non lo non lo sappiamo ma dobbiamo essere coscienti di quello che avviene guardate sedetevi un attimo concentratevi vi facciamo vedere i numeri i numeri senza commenti di quello che sta accadendo prima scheda ecco l'istat ammette in 13 regioni su 20 meno morti questo il 14 ottobre 2020 meno morti andiamo a vedere queste schede perché sono addirittura guardate 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 allora facciamo Roma 15.000 nel 2015 guardate anzi la faccio vedere tutta la scheda ecco Roma 15.000 morti nel 2015 13.000 nel 2020 l'Aquila 375 morti nel 2015 332 nel 2020 meno vedete sono in meno ancora 600 morti 690 morti 646 nel 2020 guardate guardate questa scheda anzi fotografatela fateci un quadro ecco questi sono dati guardate non stiamo facendo commenti dati eccoli qua dati dati andiamo avanti cagliari 961 nel 2015 799 nel 2020 dati in molte regioni tra il 2015 e il 2020 sono stati molto più bassi più bassi i morti ma allora rivediamo un attimo chi li ha rivisti questi dati Corriere della Sera ecco qui ha fatto un piccolo dossier vediamo che ci dice Corriere della Sera il ministero di quei 30.000 morti in più in Italia che non sono attribuiti al covid l'istat aumenta di 85.000 i decessi nel 2020 ma solo 55.000 per il virus ma e si domanda questi 30.048 che fine hanno fatto eccoli guardateli questo se lo domanda il Corriere della Sera non ce lo siamo inventati noi e adesso entriamo un po nel meccanismo vedete in questi giorni sono usciti i dati istat mischiati come possiamo dire ingrigliati con i dati del ministero della sanità e dell'istituto superiore della sanità vi facciamo vedere sono tantissimi ma vi facciamo vedere uno schemino talmente semplice talmente semplice non nostro guardate il simbolo guardate ve lo facciamo vedere eccolo qua istituto superiore della sanità ecco lo vedete ecco qua vedi dati istat istat incrociati con l'istituto superiore della sanità vi facciamo vedere questa scheda che fa paura io vi assicuro che dopo che ho letto questa scheda mi sono impaurito leggiamo leggiamo il titolo di questa scheda il titolo leggiamo il titolo guardate sempre questa eh noi non bariamo come vedete tabello patologie più comuni osservate nei pazienti deceduti covid vedete deceduti covid positivi allora che significa che significa adesso mano a mano vedete vedrete che comprendete come funziona si muore in un ospedale di qualsiasi cosa se il giorno prima di morire ti fanno un tampone e tu sei positivo positivo asintomatico cioè tu sei ricoverato per tumore ecco facciamo adesso vi sto dicendo una cosa che c'è scritta eh sei sei ricoverato per tumore il giorno prima ti fanno il tampone tampone è positivo il giorno dopo muori sapete per che cosa sei morto lo sapete per covid è così vi faccio vedere c'è scritto lo dice l'istituto sopra la sanità guardate 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 questa scheda è pazzesca guardatela insieme a me guardate patologie più comuni osservate nei pazienti deceduti covid positivi ecco qui cancro attivo negli ultimi cinque anni epatopatia cronica insufficienza renale cronica malattie auto immuni hiv ecco guardate ecco guardate hiv hiv guardate cioè solo questi vedete solo queste morti cancro no cancro leggiamo insieme non stiamo scherzando solo queste morti sono oltre il 50 per cento questi questi sono morti covid leggere insieme a me morti deceduti covid positivi eccoli ecco i numeri che ci danno ecco i numeri che ci danno ecco i numeri che ci danno non stiamo facendo commenti numeri eccoli numeri cancro attivo negli ultimi cinque anni eccoli no 17 per cento dei morti covid cancro attivo negli ultimi cinque anni ma secondo voi c'è da criticare da parlare c'è solo da leggere poi dentro di noi dentro di noi è talmente folle che non esiste un commento e non è finito guardate non è finito saremo poco poco più lunghi stasera ma è talmente pazzesco almeno completiamo questa completiamo questa serata con questi dati questi dati questi dati li trovate in questo filmato per cui durante la settimana ve li scaricate li fotografate mandiamoli agli amici alle persone ma non per altro perché dobbiamo essere coscienti di quello che avviene dobbiamo essere coscienti di quello che avviene solo questo ce lo consentirete o che cosciente legge dati è un subversivo con negazioni di stato o è una persona solo intelligente che vuole la verità noi vogliamo la verità chi non vuole la verità nega la verità ed è negazionista nega la verità guardate insieme a questi numeri mancano numeri pazzeschi perché l'avete visto i morti no e dove stanno le infezioni ospedaliere eccole guardatele è boom delle infezioni ospedaliere in italia 50.000 morti all'anno guardate 50.000 morti all'anno 50.000 cioè si va in ospedale per una qualsiasi cosa e 50.000 italiani muoiono per un'infezione ospedaliera non per la sua non per la sua malattia e anche i sindacati lo dicono perché ogni tanto dicono anche qualche cosa di reale ecco qui la confsal di lodi nuovo coronavirus no infezioni ospedaliere ecco le prove ecco querelateli questi se dite che sono se che sono dei negazionisti querelateli mandateli in carcere confsal di lodi nuovo coronavirus no ecco le prove ecco sono fatti quelli che vi stiamo facendo vedere sono documenti guardate nove milioni guardate su nove milioni di ricoveri in ospedale ogni anno si incontrano 5 mezzo milione di infezioni ospedaliere pari al 5 8 per cento e questi morti che ovviamente ci sono stati anche nel 2020 no vi rendete conto ci sono stati e perché non vengono elencati perché sono inseriti nei morti covid che ne dite e non è finita guardate non è finita la cosa è ancora più preoccupante non lo diciamo noi sapete chi è blangiardo presidente dell'istat eccolo qua guardate guardate questo signore guardate eccolo vedete questo guardate chi lo scrive avvenire chi è avvenire è il giornale dei dei monsignori del del papa ecco qua avvenire blangiardo eccolo qui nel 2019 15.000 morti per polmoniti varie nel 2019 15.000 morti per polmonite varie e adesso nel 2020 non esistono polmoniti no esistono solo polmoniti da covid sarà un altro dato un po strano un po strano diciamo un po strano possiamo dirlo un po strano o commettiamo qualche sacrilegio ma non solo non solo anzi non lo diciamo ve lo facciamo leggere conteggiato tra i caduti covid anche che vittima di un incidente per il ministero della salute tutti positivi al virus guareti compresi decenuti per qualsiasi motivo vanno sommati al totale dei soggetti uccisi dalla pandemia ecco guardate stiamo leggendo un titolo e non è non facciamo nessun commento ed ecco che aumentano ancora di più i morti per covid vi facciamo vedere un altro dato guardate generale 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 eccolo qua morti nel 2015 600.000 nel 2020 664.000 cioè in tutto questo casino sono morti solo 60.000 euro 60.000 persone in più in italia e in questi 60.000 c'è l'aumento delle infezioni ospedaliere e altro e dove sta tutto questo dramma che ci stanno raccontando e qualcuno intanto fa anche autocritica qualcuno perché poi alla fine sapete è talmente folle quello che ci circonda che qualcuno fa autocritica leggiamo insieme la repubblica e sì è capitato che a volte sbagliassimo i dati ma l'abbiamo sempre corretto quindi esistono qualcuno che ogni tanto ammette i suoi errori e adesso vi faccio vedere una tabella che ci racconta realmente la follia questa tabella anzi prima di questa tabella a proposito di errori e poi andiamo alla tabella che determinante a proposito di errori la lombardia va in arancione già da domenica avevano sbagliato compromesso regione governo c'è una regione è stata rossa con tutti i negozi chiusi con un'altra tragedia economica tutti chiusi a casa ma scusateci abbiamo sbagliato i dati ma niente ci rivediamo adesso vi mettiamo in arancione ma sono folli ecco questa è la fotografia dell'italia è la fotografia dell'italia e concludiamo con questo schemino ecco uno schemino ve lo faccio anche vedere in modo da poterlo fotografare talmente semplice che vi dà altri numeri altri sono numeri reali eccoli qua guardate ecco così si può anche ecco tranquillamente guardate guardate allora casi totali di covid in italia quando parliamo di casi totali sono quei quei casi di cui dicevamo prima compresi gli incidenti morti di tumore diciamo quei casi di cui abbiamo parlato 2 milioni e 400 2 milioni e 400 i decessi 84 mila guardate vedete e quanto fa 2 milioni 441 mila su 84 mila 3,3 per cento guardate ecco la percentuale di morti no dico la percentuale il covid dicono loro non lo ragazzi non stiamo dicendo noi cioè stiamo riportando dati pubblicati dappertutto quindi non non stiamo dando una nostra interpretazione una stiamo riportando solo dati veri reali circoscritti certificati non li diamo noi neanche sappiamo istituto superiore non entriamo neanche nelle beghe degli enti eccoli qua ma non è finita qui guardate il dato terapia intensiva e ricoverati in tutto ricoverati con sintomi guarda ecco la differenza vedete vedete perché poi guarda i positivi sono 502 mila ma sono i tamponi falsi positivi o di portatori sani perché 500 mila tamponi positivi e quanta gente ricoverata 23 mila guarda eccoli guardate 23 mila su 500 mila su 500 mila ve lo faccio vedere meglio eccolo qua 500 mila positivi 23 mila ricoverati ma di che stiamo parlando ma di cosa stiamo parlando vedete non sto facendo nessun commento perché non si possono commentare questi dati vanno presi fatti nostri dopodiché avremo una fotografia di quello che realmente sta succedendo in italia allora vi dico vi faccio rivedere questa scheda così chi vuole la può ancora fotografare poi insomma tanto sono schede pubbliche non pensiate che siano non ci abbiamo né 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 fbi né mossad siamo persone normalissime che che prendono che prendono notizie dai dati ufficiali ringraziamo ancora marcia che c'era forniti questa sera allora allora il filmato di questa sera diffondiamolo al massimo su tutti i canali che abbiamo perché sono numeri certificati avete visto come abbiamo incrociato i dati li abbiamo incrociati tutti quanti non si può sfuggire perché il presidente dell'istat il presidente del dell'istituto superiore di sanità sono tutte nozioni certificate da tutti i più grandi luminari la germania che compra i monoclonali dall'italia da latina gli italiani conte che fa causa alla cypher no pensate che terrore ecco sono tutti dati certificati che vi vogliamo dare continuiamo a darvi tutte quante le sere vi diamo questo notiziario di notizie reali effettive perché dobbiamo essere coscienti coscienti e non infatuati da un po' di telegiornali che ci martellano con notizie che non sono reali e l'abbiamo visto perché danno una notizia il titolo e poi sotto non sappiamo cosa avviene noi siamo in grado di darvi le certificazioni di tutto quello che affermiamo ci vediamo probabilmente anche domani sera abbiamo tantissime ulteriori notizie stiamo preparando anche i ricorsi per tutte le multe che vi stanno facendo illegittime sappiate che entro 48 ore ci saranno sul nostro sito io sto con l'avvocato polacco punto ditte tutti i facsimili dei ricorsi tranquilli ci sono 60 giorni per ricorrere ma continuiamo a essere vicini ai cittadini ricordatevi che ogni cittadino ogni cittadino italiano e deve essere ed è la sentinella della costituzione italiana ciao a domani ciao a noi Grazie.